Salve a tutti amici di YouTube. Credo di non aver mai visto dei messaggi subliminali in un potente mantra come questo. Se a voi è capitato, lasciate un commento qui sotto e fatemelo sapere. Di per sé, un mantra ha una potente energia e questo è decisamente utile per attrarre denaro. In più, ho deciso di aggiungerci suggestioni subliminali avanzate. Come sempre, non scaricatelo perché queste suggestioni potrebbero perdersi e di conseguenza questo audio perderebbe la sua efficacia. Guardate solamente cosa dicono alcune persone del mantra, solamente del mantra. Ascolta questo audio una volta al giorno, la sera, oppure prima di andare a dormire, almeno per 30-50 giorni. Aggiunto all'altro che trovi qui sotto in descrizione, che ti consiglio invece di ascoltarlo la mattina o il pomeriggio. La cosa positiva è che puoi ascoltarli quando vuoi, a parte mentre conduci veicoli. Se hai intenzione di approfondire questo meraviglioso mondo e far sì che questi audio abbiano un effetto 10 volte maggiore su di te, clicca nel link qui sotto in descrizione per leggere il mio libro che riguarda la legge di attrazione. Dove stai sbagliando e come attivarla correttamente nella tua vita e molto, molto altro. Troverai inoltre come regalo questo e l'altro audio originali da scaricare immediatamente nel tuo cellulare o PC e ascoltarli così senza linee internet. Per domande, risultati o dubbi, lascio un commento qui sotto. Grazie. Um wasud darei swaha Um wasud darei swaha Ombra sudare insuaha 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 Un vasudare insuaha Un vasudare insuaha Un vasudare insuaha Ommwasuddare 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 insuaha Om Vassuddare Svaha 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 Ombra sudare insuaha Ombra sudare insuaha